Bentornati al TG7. 40.000 euro di droga in casa è quanto rinvenuto dai finanzieri della compagnia di fondi che ieri hanno portato a termine una brillante operazione antidroga. Sono stati sequestrati 3 kg di diverse sostanze stupefacenti per un valore complessivo appunto di 40.000 euro e il protagonista della vicenda è un 54enne del posto arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Su disposizione del PM Giuseppe Emiliano l'uomo è stato portato nel carcere di Latina. Sulle sue tracce da diversi mesi avendone monitorato accuratamente spostamenti ed abitudini i finanzieri di fondi unitamente all'unità cinofila Dafil in forza al gruppo di Formia a seguito di un controllo e successiva perquisizione hanno rinvenuto quel che negli ultimi anni è risultato essere tra i più consistenti sequestri fatti nella piana. Presso la propria abitazione ed in alcuni locali in uso è stato rinvenuto un considerevole quantitativo di droghe sia leggere che pesanti. Si tratta di un chilo di marijuana pronta per lo spaccio, poco meno di 1,7 kg di hashish suddiviso in 17 panetti, quasi 110 g di cocaina corrispondenti a 220 dosi da destinare alla rivendita e 4 piante di canapa indiana di oltre un metro ciascuna. Le ricerche effettuate negli immobili hanno inoltre consentito di trovare materiale destinato al confezionamento e alla conservazione degli stupefacenti tra cui due macchine per il sottovuoto, una pistola revolver di tipo scacciacani modificata per apparire del tutto simile ad un'arma da fuoco convenzionale. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Ritorniamo ora a parlare della scuola dell'infanzia Maria Pia di Savoia perché è arrivata in redazione la replica della dirigente Adriana Izzo al nostro articolo di denuncia di ieri. Si vuole precisare, ha scritto la preside, che i lavori di tinteggiatura della scuola dell'infanzia Maria Pia di Savoia sono stati realizzati grazie a fondi ministeriali meglio conosciuti come scuole belle. La possibilità di usufruire di tali risorse in tempi molto ristretti ha portato con sé accanto ad un mondo di colore apprezzato dai bambini che oggi hanno regolarmente svolto le lezioni, anche un lieve di servizio. Tre delle nove aule tinteggiate alle ore 8 sono state restituite nelle condizioni atte ad accogliere i bambini perché non adeguatamente ripulite e sistemate dalla ditta che ha svolto i lavori. I bambini delle tre sezioni sono stati raccolti nel refettorio e grazie al pronto intervento del personale dipendente della nostra istituzione alle ore 9 l'ultima delle tre sezioni ha potuto prendere posto regolarmente. Rilevo con profondo rammarico continua e conclude la dirigente che lo sforzo di far convergere sulla scuola a fondi e risorse provenienti anche da enti diversi da quelli dell'amministrazione locale possa aver dato adito a strumentalizzazioni che mortificano il lavoro di chi e anche in questi giorni di festa per tutta la comunità locale si è adoperata per migliorare gli ambienti di vita dei nostri piccoli. Si è svolto la settimana scorsa presso la sede nazionale del Lanci a Roma un importante convegno per illustrare i contenuti e le prospettive che offrirà il bando sport Missione Comune. L'incontro a cui hanno preso parte i rappresentanti delle amministrazioni dei comuni del Lazio il vicepresidente nazionale del Lanci Roberto Pella e il commissario straordinario dell'Istituto per il Credito Sportivo è stato il modo per esaminare i contenuti del bando che offre l'opportunità a tutti i comuni di presentare entro la data del 5 novembre 2016 richieste di finanziamenti per progetti di adeguamento, ristrutturazione, ampliamento e efficientamento energetico di impianti sportivi esistenti oltre alla possibilità di realizzazione di nuove strutture. Anche il Comune di Fondi si sta attivando per partecipare al bando dichiara il consigliere comunale della lista IOSI Fabrizio Macaro presente al convegno svoltosi a Roma. L'amministrazione, a guida del sindaco Salvatore De Meo ha sempre rivolto la massima attenzione al settore sportivo e all'impiantistica sportiva. Con questo nuovo bando, continua Macaro il Comune di Fondi avrà l'opportunità di poter intervenire nuovamente nella ristrutturazione e adeguamento di strutture sportive comunali alcune delle quali sono utilizzate in orario antimeridiano dagli allunni delle scuole per l'attività di educazione fisica mentre negli orari pomeridiani e serali vengono utilizzate dalle numerose associazioni sportive della nostra città le quali, oltre a svolgere le specifiche attività fisiche delle numerose e svariate discipline sportive presenti a Fondi svolgono l'importante ruolo di integrazione sociale di tanti ragazzi e ragazze. Proseguono le iniziative dell'Ottobre Rosa mese della prevenzione del tumore al seno promosse a Fondi dal Comitato Andos Onlus Domenica dalle ore 16 alle 10 presso il Centro Multimediale Dandanino di Sarra sarà praticato con esercizi di gruppo lo yoga della risata come rigenerare corpo e mente in modo piacevole ed efficace si tratta di una tecnica innovativa di risata indotta facile per tutte le età per raggiungere in pochi minuti importanti benefici psicofisici l'attività sarà coordinata da Marisa Monderna teacher dello yoga della risata e volontaria del Comitato Andos di Albano Laziale la partecipazione è gratuita ma è richiesta l'iscrizione dello yoga della risata entro giovedì 13 ottobre telefonando il numero 392-9458-154 il progetto Andos prevede inoltre per sabato 22 l'allestimento di un villaggio rosa tra piazza Alcide dei Gasperi e piazza 4 novembre dove sarà possibile accedere gratuitamente a controlli specialistici al seno ed assistere ad una dimostrazione delle manovre salvavita a cura dei volontari del locale comitato della Croce Rossa italiana e sabato 5 novembre presso la sala conveni del Castello Caetani lo svolgimento di una tavola rotonda sul tema la mammella cosa possiamo fare moderata dalla dottoressa Franca Forte ginecologa consultoriale per ulteriori informazioni vi rimandiamo al nostro sito tvcanale7.it cambiamo ora argomento quando il confine era a Monticelli è il convegno organizzato per sabato scorso dall'associazione ex alunni del liceo classico Piero Gobetti noi c'eravamo e abbiamo intervistato il presidente dell'associazione organizzatrice Maria Eletta Carocci ascoltiamo la conferenza dal titolo quando il confine era a Monticelli nacque un bel giorno quando il professore Salvatore Nallo mi contattò per chiedermi di convocare al più presto i membri del consiglio direttivo dell'associazione ex alunni del liceo classico Piero Gobetti di Fondi disse di avere materiale interessante per una conferenza tutti entusiasti di creare attorno alla presentazione del documentario storico un incontro che volgesse da un lato a perfezionare a potenziare la consapevolezza e la conoscenza di una realtà storica così delicata di un periodo così delicato e dall'altro lato che volgesse a mettere in comunicazione le diverse realtà del comprensorio abbiamo così invitato e coinvolto come ospiti di particolare rilievo gli amministratori dei comuni di Fondi di Montessabbiaggio e di Gaeta i rappresentanti attuali di questo territorio che probabilmente le cui sorti certamente mutarono proprio a causa o se vogliamo conseguentemente agli accadimenti storici del 1860 del 1861 Ai nostri microfoni anche il dottor Salvatore Nallo tra i promotori dell'iniziativa che ha parlato delle prossime iniziative e i programmate dall'associazione ex alunni del liceo classico Piero Gobetti ascoltiamo Vogliamo ringraziare tutte le persone che hanno partecipato stasera a questo convegno sull'assedio di Gaeta che è stato veramente particolarmente interessante è un dibattito anche molto ben condotto dal dottor Fabbroni giornalista veramente di livello nazionale dopodiché il giorno 15 ci sarà l'intitolazione della strada che collega Viappia al diversivo Acqua Chiara fatta ovviamente dal sindaco di Fondi e dal vescovo il Monsignor Luigi Vari l'arcivescovo di Gaeta intitolata Monsignor Regino Cardinale questo personaggio fondano poco studiato in realtà nel centenario della nascita meritava secondo noi questa attenzione da parte dei fondani nel programma ovviamente cerchiamo di renderlo pubblico in maniera da avere quante più persone possibili alle 17 c'è l'intitolazione della strada poi a Palazzo Gaetane qui dove siamo adesso in questo splendido ambiente e ringraziamo ovviamente il direttore del parco per l'ospitalità e per darci a disposizione non solo una location fantastica veramente ben tenuta ma anche un personale assolutamente dedicato e assolutamente di un garbo e di una professionalità unica e dicevo qui ci sarà una commemorazione anche corretta dal punto di vista scientifico con l'intervento del sindaco di fondi del dottor Marco Grilli uno dei componenti del nostro consiglio direttivo e del professor Vincenzo Bonomo docente ordinario di diritto internazionale della pontificia università lateranense ed è praticamente un è un personaggio che ricopre lo stesso ruolo che in realtà ha avuto Monsignor Regino Cardinale che è stato all'interno del Vaticano il primo in assoluto ad avere un ruolo di ambasciatore presso la comunità europea nel momento in cui è stata fondata e poi la 19.30 nel monastero di San Magno ci sarà una celebrazione con la presenza dell'arcivesco del nuovo arcivesco di Gaeta Monsignor Luigi Vari anche sperlonga tra i borghi italiani più amati dagli americani a riportarlo è il sito repubblica.it la nostra perla del tirreno dunque tra i centri più apprezzati negli USA oltre alle grandi città quali Roma Firenze e Venezia la lista arriva dal famoso sito americano BuzzFeed che ha chiesto agli utenti di partecipare sui social segnalando i borghi preferiti così da Sperlonga ad Otranto come si legge su Repubblica da Cervo a Bosa ogni regione è menzionata in questo elenco e immortalata con delle immagini raccolte dagli utenti Instagram che hanno voluto raccontare anche in maniera social le ricchezze del nostro paese che il mondo ama e ci invidia apriamo ora la pagina sportiva prima gioia stagionale per l'HC Banca Popolare di Fondi che priva di Gianluca Di Manno e Gianluigi Di Cicco in panchina solo per onor di firma centra un'importante vittoria contro una coriacea palla a mano Benevento come nell'esordio casalingo di due settimane fa contro l'altra squadra di Benevento il Valentino Ferrara la prima frazione dell'incontro registrava uno sostanziale equilibrio tanto da chiudersi sul 12 a 12 una volta rientrati in campo per i primi 10 minuti la musica non cambiava e continuava a regnare l'equilibrio fino a quando i ragazzi cari al presidente Vincenzo De Santis trascinati dai mai domi Stefano Di Manno e Zizzo piazzavano un importante 2 a 0 portandosi così sul 18 a 16 tuttavia i sanniti sospinti dalla grinta e dall'esperienza dei fratelli Sangiuolo si rifacevano sotto 21 a 20 a 10 minuti dal termine il match si decideva quindi nella parte finale quando i padroni di casa elevavano l'attenzione difensiva e l'angolano Antonio entrava finalmente in partita mostrando in improvvisa quanto efficace vena realizzativa erano questi gli elementi che rompevano definitivamente l'equilibrio a favore dei rosso-blu e indirizzavano la partita verso il 27 a 23 finale seconda vittoria in altrettante gare per l'oasi di Cufra Fondi che a differenza del match casalingo con Anzio è riuscito a mettere in mostra buone cose su ambo i lati del campo seppur con qualche distrazione difensiva di troppo nel primo tempo Macaro ancora una volta è costretto a giocare senza due pedine fondamentali come Fontana e Pietro Santo nonostante il recupero di Giannone non al top della forma e di Di Manno il coach Fondano è sbravo nel scegliere il quintetto giusto tanto da spuntarla in trasferta contro la Virtus Aprilia per 78 a 59 l'oasi di Cufra agguanta così la seconda vittoria consecutiva con una prova di qualità e quantità la squadra di Capitan Romano adesso dovrà lavorare duramente in settimana per preparare al meglio la sfida casalinga di sabato contro Civitavecchia una delle squadre maggiormente accreditate del girone questa edizione del nostro TG termina qui io vi ricordo che per suggerimenti e segnalazioni potete mandare una mail all'indirizzo redazione chiocciolatvcanalesette.it oppure contattarci sulla nostra pagina Facebook Canale 7 potete inoltre continuare a seguirci sul nostro sito tvcanalesette.it dove troverete tutti gli approfondimenti e gli aggiornamenti grazie per averci seguito e buon proseguimento sulla nostra rete grazie a tutti i nostri spettatori